C'è la donna! Oh, i miei nipoti! Come sono? Non fai parte della famiglia! Lasciaci in pace, è chiaro? Ho il sospetto che vogliano più bene a tua madre che a me. Una ricetta di famiglia, ne gradisci una fetta? La polizia ha appena trovato il corpo di Calvi. Dovete fare quello che vi dice la nonna! Ma che succede qui? Ma tu la stai descrivendo come una donna diabolica. Ma sei impazzita? Fa sparire quel cellulare! Per il ciclo nel segno del giallo, in prima visione assoluta, le regole della pazzia. Domani 21.05, Rai 2.